ok salve ragazzi oggi facciamo una wikipedia speedrace no non una speedrace ma diciamo allora vi spiego il gioco pass in pratica devi andare devi partire da una pagina di wikipedia e arrivare ad un'altra semplice dovevi cliccare sulle pagine niente correllati vabbò funziona così il gioco un po come youtube allora ovviamente non ho rubato dai commenti di un youtuber da cosa fare però vabbò allora ragazzi la prima è qualcosa di incredibile dall'arci duca francesco ferdinando a kendrick lamar ok ok ragazzi dobbiamo io sono veramente pronto di andare a vedere cosa cosa faremo allora ecco qua francesco ferminando l'autica ok allora allora come come cacchio arriviamo allora dobbiamo arrivare al rap dal rap poi che ne spogli sicuramente la sarajevo no no sarajevo dobbiamo arrivare cacchio dobbiamo arrivare militare come cacchio ci arriviamo a a kendrick lamar austria-ungheria allora austria-ungheria prima guerra mondiale la prima guerra mondiale ha combattuto gli stati uniti lo che gli stati uniti america dagli stati uniti andiamo musica 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 rap 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 come tanto fa a non esserci rap rock dance goose belso non c'è rap facciamo faccio una cosa facciamo una facciamo baria a ups scusate dov'è war no washington dc dove si trova regioni geografiche new york da new york arriviamo a da new york clicchiamo sul primo stato allora scultura sport allora allora troviamo troviamo la prima azione che ci viene allora quando quando pensiamo al rap pensiamo subito al a a a dov'è 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 brooklyn un atto bro 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 brooklyn nets ehm ehm bronx dai bronx adesso me lo devi dare adesso mi devi dare il bronx break dance ehm break dance rap esatto rap ehm verbali di mua no meglio se no allora andiamo su rap dov'è rap dov'era rap hip hop ecco qua hip hop come l'ho detto tra l'altro hip hop hip hop vabbò allora come cacchio mo come cacchio c'è allora you dillinger mc ehm 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 vabbò lo sapete rosa forse andiamo su qualche artista che forse non lo trovo vabbè che mo vabbè che ricchiamo su cose a caso la così 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 deathmix 2 allora quando noi parliamo di kendrick lamar ci viene subito in mente tu pimpa butterfly ecco qua hip hop come genere musicale ehm allora ecco qua kendrick lamar avete visto era così difficile mio dio mio dio mio dio mio dio ok allora prendiamone un'altra allora i puffi a maurizio merluzzo sarebbe molto difficile allora ehm mi sa di no gabby 16 bit ehm non c'è gabby 16 bit quindi quindi no non lo facciamo purtroppo ragazzi perché qualcuno no non facciamo cosa sulla musica da jerry scotti a batman ok sfida accettata da jerry scotti a batman jerry scotti ok abbiamo jerry scotti ehm un un giga chad una persona a cui ispirarsi eh no non volevo mettere l'url come sorgente scusa allora quindi eh a cosa dovevo arrivare a batman si allora ehm allora per poter allora doppiatore riso scotti dai forse batman in realtà ci arriviamo veramente ragazzi veramente doppiava doppiava telefono chiacchierone no ragazzi un giorno mi devo andare a rivedere i tuoi story 3 ragazzi un giorno mi devo andare a rivedere i tuoi story 3 io non ci credo che veramente che veramente jerry scotti abbia fatto una cosa del genere no vi prego io sto sognando allora ehm allora cazzate a parte eh allora jerry scotti lavora per la mediaset la mediaset ha un programma di nome ha cioè ha un canale di nome Italia 1 ok ha un canale di nome Italia 1 cartoni animati anime fuck cacchio non c'è allora come cacchio eh ma come ci arriviamo a batman allora come cacchio ci arrivo a batman forse anni 2000 forse anni 2000 attenzione 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 Anna Barbera braccio i ferro ehm anzi faccio una cosa facciamoci batman 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 begins attenzione batman begins batman ecco qua scusate per per l'allungamento di questa cosa qua però boh è stato molto molto bello questo round allora prossimo round ne vogliamo da berlusconi a rocco siffredi io ho paura per questo no questo round non lo faccio perché scaviamo troppo a fondo ehm allora dal sommo poeta di Firenze a Mario Rui perché non so chi è il sommo poeta di Firenze ovviamente il il buon ovviamente vi dissocio da questo round comunque dobbiamo arrivare a Mario Rui allora come cacchio vabbò realtà è facile clicciamo su Firenze Italia salve ops non ho cliccato dove cacchio si trova dove ti mostrano letteralmente tutte tutte le zone dell'Italia questo lo trovo economia sì cittadinanza italiana suddivisione ecco qua suddivisione amministrative allora dobbiamo trovare campagna ecco qua campagna Napoli Napoli poi andiamo su sport dove cacchio si trova media radio cinema tele non c'è sport aspetta che forse sono ecco qua sport società sportiva calcio Napoli e tra e tra la rosa c'è ovviamente il gold Mario Rui ragazzi wow veramente veramente incredibile questa abbastanza cosa è questo qua mi chiede la politica di prote ah non me ne fregano ma lo sai ragazzi io sto trovando il cabbo che me ne frega ma vabbò per il prossimo round quali lecchio troviamo dai puffi a Maurizio Merluzzo ok facciamo facciamo dai puffi a Maurizio Merluzzo che te posso dire puffi ok quindi ah quindi questi sono i puffi lo sapete il problema è che di Maurizio Merluzzo non mi ricordo cosa aveva doppiato cioè ha la pagina di wikipedia però non so cosa ha doppiato allora personaggio allora Peio Peio è del Belgio il Belgio il Belgio confina no in realtà come facciamo confina con la Francia la Francia che a sua volta confina con l'Italia l'Italia è mo è mo scusate per e mo che si fa ragazzi cioè cosa cacchio devo fare mi sa che devo andare forse su doppiatori tipo tipo cinema ragazzi ragazzi baro faccio una cosa allora ha doppiato qualcosa su ok ok ragazzi ho la strategia ragazzi ho la strategia incredibile arriviamo a One Punch Man mondiale di calcio 2006 dove sicuramente ci sarà qualcuno ci sarà ci sarà stato il ok ecco qua Giappone allora il Giappone ha un atto che devo andare a trovare questi sordi sono molto sono molto belli a quanto pare sono molto belli questi sordi ok Giappone scusate se però ho barato perché comunque sono andato a cercare allora cinema allora guardate ragazzi se sto sto facendo allora dove cacchio ma ma semplicemente mandatemi anime cioè basta anime scusate per i bellissimi suoni che io produco ordinario al Giappone tutti come ah dov'è la pubblicazione in Giappone ecco qua anime anime poi generi allora un atto che faccio una cosa allora c'è un pan pan non c'è non c'è un pan porco di allora eh ragazzi ok ragazzi m'ho trovato m'ho trovato uno dove adesso adesso ragazzi ho trovato quello che ci serviva allora dragon ball super doppiaggio perché da qualche parte c'è maurizio 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 non c'è maurizio maurizio allora ragazzi questa questa dovrà essere pesantemente questa parte dovrà essere pesantemente editata perché ragazzi ci abbiamo messo 14 minuti questa sicuramente la evito vabbò e io direi che possono anche chiudere perché dopo questa basta per favore ci vediamo